Allora, vi ricordo che è in corso Un altro mondo è possibile con Giulio Pervaina, intervista a Pierluigi Cimini, sui TV, Giuseppe Mazzia, Dio Giulio, Giulia e Cani di Giuseppe Pizzera. Vi ricordo che è in corso in questo momento, è arrivata la pizza e io devo dedicarmi, ma che bella con le selle, bellissima. Perfetto, insieme a me, sì, a favore di te le tavole, con queste bellissime selle. L'emozione, ma va bene, mi piace, mi piace l'emozione, è bellissima la stessa, buongiorno. Da dove arrivi? La prima volta qui a Campanella. Molto bene, parlami di questa pizza, le selle e l'esempio di quello sono fatto. Le selle sono di Pannigiano e Reggiano, questa è una pizza che si chiama Sciarparello, che è un cartone coretano, antico, la metà di Rappesetta, lui li ha sempre fatto, il dalparino giallo e rosso, con un pulì di basilico, polvere di pomodoro, polvere di basilico e in questi saldi a fondo di Pannigiano, proprio per rifaltare, diciamo, questo prodotto spazionale. Bellissima, quindi la tradizione portata, Marcinacera, bellissima lo stesso, la tradizione interna l'ha portata nella pizza, che mandiamo al tavolo, tre, complimenti. Bellissima, 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 bell